Cari amici, molti mi hanno chiesto di commentare la visita di Bergoglio al feretro del presidente napolitano. Ecco, lo faccio un po' malvolentieri perché è una scena di una grande tristezza, di una immensa tristezza, devo dire. Così come è triste vedere quei pochi cattolici rimasti che si scandalizzano per il fatto che Bergoglio non si è fatto il segno della croce. E va bene, diceva, com'è che il Papa non si fa il segno della croce davanti a un morto? Eh, com'è? Chi lo sa? Boh. Comunque, Camillo Langone ha concluso il suo articolo dicendo Beh, Bergoglio, allora al prossimo funerale potrebbe presentarsi in clergyman senza quell'assurdo anacronistico abito bianco e soprattutto senza quell'impressionante croce sul petto indelicata verso atei, buddisti, maomettani, zoroastriali. Ecco, sì, effettivamente, quell'abito bianco è assurdo su Bergoglio perché lui non è il Papa e la croce sul petto che si porta è sicuramente impressionante. Perché? Perché non è una croce con un simbolo cristiano, c'è il buon pastore con le braccia incrociate, dei rosa croce ma in una versione peggiorata, perché il buon pastore dei rosa croce porta la mano destra appoggiata sulla sinistra per significare il prevalere della luce sulle tenebre, mentre quella di Bergoglio porta la sinistra sulla destra. Ora, vedere Bergoglio che non si fa il segno della croce davanti al freddo di Napolitano a me non ha per niente scandalizzato perché il patriarca di una chiesa scismatica non cattolica che fa visita al presidente defunto, che problema c'è? Scandalizzerebbe vedere il Papa, vero che non si fa il segno della croce, ma Bergoglio non è il Papa quindi non c'è nessuno scandalo. L'unico scandalo è vedere come le persone ancora non riescano a capacitarsi di questa realtà ovvia, banale, che è stata sviscerata in tutto e per tutto, e continuino a considerarlo Papa Francesco. Ma va bene così, va bene così, io ho capito perché è importante che ci sia questa potenza d'inganno che tiene plagiate le menti della maggioranza dei cattolici o presuntitari. Uno spunto interessante, lo standard del presidente emerito, modello 2001, ricordiamo che Napolitano era un presidente emerito, è uno standard diverso da quello del presidente della Repubblica e noi ci ricordiamo come invece Papa Benedetto da Papa emerito abbia mantenuto le sue insegneraldiche tali e quali quali erano all'inizio del suo pontificato, proprio perché il Papa emerito non può esistere come esiste il presidente della Repubblica emerito, il Papa emerito è il Papa impedito, ne abbiamo già parlato di questo, è un eufemismo per dire Papa impedito. Ma la cosa più triste, veramente patetica di questa occasione è stato vedere Bergoglio che ripetutamente durante questa visita si portava la mano sul cuore. Questo lo potete constatare voi stessi, è un dato oggettivo che la mano sul cuore sia un gesto di riconoscimento fra massoni. Ora, che Bergoglio lo abbia fatto per caso, lo abbia fatto perché aveva un prurito, lo abbia fatto perché aveva una fitta al cuore, non lo sappiamo. Resta il fatto che si è portato ripetutamente la mano sul cuore e che la mano sul cuore è un gesto dei massoni. Ognuno si faccia l'idea che crede opportuna. Ecco, io vi aspetto con le prossime date il 5 ottobre a Savigliano in provincia di Cuglio, il 14 ad Ancona e il 15 a Teramo, specificatamente presso Sant'Egidio alla Vibra. Grazie per avermi seguito fin qui, un caro saluto a tutti.